amici di tg plus buongiorno oggi parliamo di cani gatti alimentazione estiva lo facciamo col nostro ospite roberto bettuzzi è laureato in scienze della produzione animale per tu buongiorno 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 elisabetta e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando buongiorno e grazie di essere con noi dicevamo stagione estiva cosa dovrebbero mangiare i nostri amati animali domestici quindi principalmente cani e gatti sì diciamo che nella stagione estiva la cosa migliore da fare sicuramente dargli un'alimentazione leggera quindi fondamentalmente carni leggere carni bianche o pesce perché questo sicuramente aiuta e facilita la digestione fondamentalmente quindi evitare il più possibile le carni rosse le carni troppo grasse stare attenti anche al contenuto totale di carboidrati perché ovviamente i carboidrati se in quantità eccessiva possono provocare una leggera infiammazione gastrointestinale per cui ricordiamo che parliamo sempre di carnivori quindi fondamentalmente il primo ingrediente deve essere sempre la proteina a parte particolari situazioni dove ovviamente ci vuole anche l'intervento del medico vetrinario però se un animale è sano non ha nessuna problematica fondamentalmente noi possiamo dargli prevalentemente appunto un'alimentazione a base di carni bianche o pesce altro consiglio che ti chiedo c'è differenza tra cibo chiamiamolo domestico oppure cibo in scatoletta crocchette quindi cibo che puoi acquistare in un negozio specializzato diciamo che se l'alimentazione casalinga viene gestita da un professionista no nel senso che un piano alimentare casalingo formulato da un professionista quindi con appositi calcoli matematici è un piano alimentare che fondamentalmente è esattamente ben bilanciato come il prodotto commerciale se invece una persona vuole fare un'alimentazione casalinga stile libero allora quello può essere molto pericoloso insomma perché ovviamente non siamo sicuri di fornire non solo gli adeguati livelli di proteina carboidrati e fibra ma anche gli adeguati livelli di vitamine minerali che sono fondamentali per numerosissime funzioni biologiche quindi un animale seguito ovviamente da un professionista potrebbe mangiare tutta la vita di cibo domestico cibo casalingo certamente esatto cioè se viene esatto alimentato in maniera corretta con i giusti calcoli con le giuste proporzioni e ovviamente nel momento in cui dovesse essersi della patologia ovviamente anche il piano casalingo può tenere conto di varie situazioni patologiche insomma quindi fondamentalmente un buon piano alimentare casalingo non ha nulla di invidiare un prodotto commerciale al contrario appunto come dicevamo prima se invece uno vuole fare un'alimentazione casalinga così a stile libero allora in questi casi consiglio eventualmente un prodotto commerciale perché appunto è ad alto rischio la possibilità di non avere un'alimentazione ben bilanciata